Un talento speciale. Per fare un esempio, Dalton è un ballerino classico e Mariana laggiù ha creato la sua personale criptovaluta che si chiama Monetiana. Renfro ha girato cinque documentari ed è stato il soggetto di altri due e Jamal è famoso in un altro paese. Boh, non mi ricordo quale. Oh, ok. Io non ho mai fatto niente del genere, però posseggo moltissimi altri talenti. Vesto in fretta il manichino e non mi fermo neanche un secondo. So piegare maglie strane abbottonate da cima a fondo. Metto gli orecchini bene ad ogni gancio. La cliente chiama e sono là, le sorrido con slancio. Vede? La stupirò per come azzecco le taglie. So ben disporre pantaloni e maglie. Trasformo gli scappali in teche splendenti. Ho mille talenti, mille talenti. E sta facendo la modesta. È vero. Manda il gomito all'indietro. Fa magie con una moneta. È agile sul monociclo. Con i burattini è dotata. Ha racconti e storie. Ne ha per ore ed ore. Poi ricorda i nomi dei cani. Quindi è la migliore. Perciò lo scioccherò col mio servizio clienti. Non ho mai preso niente. Ho fatto commenti. Se c'è un problema è lì che lo faccio avanti. Ho mille talenti, mille talenti. Per avere diritto al reso, l'articolo dovrà essere intonso come quando l'ha comprato. Dopo 50 giorni avrà un buono spesa del valore dell'articolo esibendo lo scontrino. Buona giornata! Vede? Una memoria da fuori serie. Non mi do mai malata, non prendo ferie. Sono capace a far quadrare i conti. Ho mille talenti. Ops! Posso ripagarla se mi dai il lavoro? Mille talenti! È andata bene!